Questo Napoli fa davvero paura, gli azzurri schiantano l'Atalanta con un sonoro 4-1 chiudendo la partita già nei primi 45 minuti di gioco. Sono onesto, sul 3-0 ho detto che secondo me la Dea può ancora recuperare, vedendo anche il quarto gol e le sostituzioni fatte da Gasperini nei primi 15 minuti della ripresa con l'uscita di Zapata e Gomez mi hanno portato a pensare che fosse una resa incondizionata. Quindi questo Napoli può lottare per lo scudetto con Juventus e Inter, ha una rosa lunga, ha sopperito ad assenze importanti come quelle di Elmas, Zilinski e Insigne e nonostante questo ha dominato contro l'Atalanta comunque a pieno regime e che aveva recuperato anche Ilicic. Detto che io lo avrei tenuto in panchina schierando muri, dato che comunque si è potuto notare come lo sloveno non fosse ancora al top della forma. Per il Napoli una nota particolare per Rosyman, il centravanti moderno, fisico e che mi ricorda molto Lukaku. Gioca molto con il fisico, è bravo a far salire la squadra e a giocare di sponda, quindi un acquisto assolutamente promosso e nonostante siamo all'inizio stagione io direi che vale l'investimento fatto. Mentre nota di merito anche per Lozano che nonostante le tante polemiche e le tante critiche più avute sul suo conto negli ultimi mesi, si può dire nell'arco di tutto l'anno, ha dimostrato di poter dire la sua, Gattuso gli ha dato fiducia. Ma è lui che ha meritato questa fiducia, visto che proprio Gattuso ha detto che se lo sta schierando titolare è per merito suo per l'atteggiamento che sta avendo anche durante la settimana in allenamento. Detto questo, questa partita io l'avevo detto, partita fondamentale per il Napoli, una vittoria voleva dire dare uno schiaffo a una diretta rivale per la lotta a quarto posto e voleva dire anche dare un segnale agli Inter per dire noi ci siamo per la lotta a Scudetto. Una sconfitta invece avrebbe voluto dire ridimensionarsi e pensare a chiudere tra le prime quattro barra sei. Detto questo, ci vediamo con il prossimo appuntamento sul mio canale, vi invito a iscrivervi sul mio canale YouTube Armando Arinillo e sul profilo Instagram. Grazie e buon fine settimana.